In via Leonardo da Vinci sono partiti oggi i lavori per la rimozione delle rotaie della metro Mainata. Con la rimozione delle rotaie in questo tratto si avvia a conclusione tutta l'operazione. Il progetto della tramvia di superficie risale all'aggiunta tempesta negli anni 2000. Nel 2009 la revoca del contratto con la CGRT, il raggruppamento di imprese che avrebbe dovuto realizzare l'infrastruttura Mainata. I problemi sono stati lasciati dalla mancata realizzazione, come le rotaie appunto, che nel corso degli anni sono state anche causa di diversi incidenti per i quali il Comune ha dovuto peraltro risarcire i malcapitati. Ovviamente dopo i lavori sarà rifatto il manto stradale. Un milione di euro per tutte le rimozioni. Mancano ora via Manzoni e via Piccinini a completare il tutto. Con questi lavori concludiamo finalmente, dopo tanti anni, la rimozione di tutti i binari su via della Comunità Europea, via Nonata da Vinci e via Miternum. E' un progetto iniziato e inserito in più antenne alle opere pubbliche nel 2020-2021. Penso che per fine settembre dovremmo avere tutte e tre le strade sgombra dai binari e potremmo ricominciare a circolare liberamente. Ecco, poi che cosa manca per completare il tutto? Manca due parti importanti, che via Ugo Piccinini ci sono ancora dei binari e via Manzoni, anche se sono ricoperte dagli asfalti, specialmente via Manzoni. Però dovremmo cercare i fondi per rimuoverli totalmente. Ovviamente sarà rifatto il manto stradale che in quelle zone è anche abbastanza dissestato, ha provocato incidenti. Insomma, anche questo è stato un problema che avete dovuto affrontare negli anni. Sì, verrà fatto tutto l'asfalto per tutta la lunghezza della strada e in più verranno anche sistemati i marciapiedi. Chiediamo scusa alla cittadinanza per i disagi che potrebbero regare questi lavori pubblici in questo periodo, però preferiamo farlo in periodo estivo e non in periodo autunnale, dove ci sono gli studenti che vanno a scuola, perciò c'è un aumento della circolazione. Grazie a tutti.